Insomma, nei luoghi di lavoro come ci si lava le mani? Bisogna starci 20 minuti a lavarsi le mani secondo le indicazioni. C'è tutta una cosa che... No, non dobbiamo assolutamente esagerare. Bisogna imparare a lavarsi le mani. Diventerà un gesto istintivo come lo facciamo noi che lavoriamo da tempo nei laboratori. Se impariamo a lavare le mani, tutte le volte che lo faremo non dovremmo stare lì a guardare le indicazioni per farlo. Poi con la nonnina, una sola critica. Non è vero che non ci possiamo abbracciare, perché che tristezza. Dobbiamo abbracciarci e baciarci. Ovviamente se la persona che noi abbracciamo e baciamo non è ammalata, non è positivo, realmente positivo. Ricordo, il positivo non è solamente quello che ha avuto un test dal nostro laboratorio. Deve essere confermato dall'Istituto Superiore di Sanità. E questo lo vorrei dire a tutti, perché molte volte circolano dati positivi che poi non sono confermati. Noi, devo dire che come laboratorio, abbiamo l'orgoglio che tutti i nostri test positivi sono stati confermati. ma tutti siamo pronti a fare un passo indietro potremmo anche avere un falso positivo e quindi aspettiamo sempre il risultato dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie, grazie mille professoressa.